sono due sorelle zitelle offese da una natura ingenerosa vissute senza amore e per questo incattivite con la vita e fra di loro sono addolorata e rosaria le signorine diventate vecchie prima di diventare sagge il testo di gianni clemente è stato adattato alla realtà di un vicolo di napoli e splendidamente interpretato da giuliana desio e isa danielli che con una grande prova d'attrice suscitano risate amare credo che sia lo spettacolo giusto in questo momento che ti fa uscire con un po di amarezza però essendoti divertito è una tragica media segnata da miseria meschinità stitichezza economica e morale in bagno da una lampadina a 25 watt in salotto a 40 e illuminare morto fanno più luce ma fai sentire le giornate rabbia e frustrazione che sfociano in un finale in cui l'infelicità è direttamente proporzionale ad un'amara e imprevedibile disgrazia addolorata e malata nell'anima quindi non si può dire non è che finisce che si sposa il principe azzurro e vissero no non finisce così uno spettacolo che diverte e commuove grazie alla veracità napoletana e all'affiatamento delle due interpreti evidente anche fuori dalla scena che cos'è questo lavoro è la nostra vita meno male che siamo tornati a farlo per me è stata la cosa più bella che io abbia avuto veramente e mio marito per me sono le cose più belle che ho avuto adesso ci rinuncerei pure a tuo marito no no al teatro se facessi sì sì se dovessi fare una scelta adesso forse non lo farei più addolora noi non siamo signore siamo signorina